Capitolo 17 di Giovanni, siamo quindi alla conclusione del lungo discorso di Gesù, i discorsi da Dio, cosiddetti, dal capitolo 13 al capitolo 17, l'ultima cena secondo il Vangelo di Giovanni. Gli esegeti dicono che il capitolo 17 è probabilmente il testo più tardo all'interno di questi capitoli, quello che Giovanni e la sua comunità, la comunità giovanea, hanno scritto e elaborato un po' dopo. Questo testo raccoglie alcuni dei temi già toccati da Gesù nel suo lungo discorso e che qui confluiscono nella forma della preghiera. Il capitolo 17 è un capitolo di preghiera, lo vediamo fin dall'inizio. Gesù parlò così e poi, alzando gli occhi al cielo, il gesto tipico dell'orante, disse Padre, è giunta l'ora, Padre. È un po' come il Padre nostro del Vangelo di Giovanni, nel senso che nel Vangelo di Giovanni non troviamo il Padre nostro, ma troviamo questa lunga preghiera che inizia con la parola Padre. Nel corso del discorso Gesù è arrivato fino a qui, avendo anzitutto preparato i Suoi discepoli al distacco da Lui. Da 13.31 a tutto il capitolo 14 ricorderete Gesù ha cominciato a dire, guardate io me ne vado, mi vedrete ancora per poco e poi non mi vedrete più, poi mi vedrete ancora per la mia risurrezione, però sto per andarmene. Questo lascia costernati i discepoli, le lascia disorientati. Ricordate gli interventi di quattro discepoli diversi che con le loro domande segnalano da un lato il loro disorientamento. Ma cosa vuol dire che te ne vai? Pietro dice io ti vengo dietro, vengo con te subito. No, non puoi venire adesso, dice Gesù, non sei in grado di farlo. Che cosa succede se tu te ne vai? Come facciamo poi a stare in relazione con te se te ne vai? E che cosa diventiamo noi? E che cosa diventa al mondo se tu non sei al mondo? Il disorientamento. E dall'altro lato quelle domande segnalano la loro incapacità a capire ciò che Gesù sta cercando di dire. Intuiscono che la dipartita di Gesù ha a che fare anche con una conoscenza nuova, in qualche modo più profonda del padre, ma non riescono a capire in che modo. Ecco, quindi nel capitolo poi 15 e 16 Gesù cerca di prenderli per mano e di accompagnarli dentro questa nuova prospettiva. Sì, conoscerete il padre in modo nuovo. Anzitutto usa l'immagine della vite dei tralci, no? Vi sono la vite, voi siete i tralci, il padre mio è il vignaiolo. Accompagnandoli dentro a quell'immagine, quella metafora, Gesù sta cercando di dire, guardate, il nostro rapporto si approfondisce in realtà. Il fatto che io vada apre a nuove possibilità al nostro rapporto. Voi rimanete in me, radicatevi nella mia parola. Rimanere, il verbo rimanere ricorderete dieci volte, ritorna in quei primi 17 versetti del capitolo 15. Così come il portare frutto, il rimanere in me è la condizione perché portiate frutto, perché il vostro apostolato sia fecondo, perché l'amore che ricevete come linfa che vi attraversa possa debordare e diventare nutriente per tanti altri. Poi da 15-18 in avanti Gesù dice, guardate, tutto questo ha un prezzo, perché il mondo non vi riconoscerà come suoi, come suo, non vi riconoscerà come parte del mondo e quindi vi osteggerà in tanti modi. Ma io vi do un avvocato difensore. Nel grande tribunale della storia in cui sarete chiamati a dare testimonianze di me, io vi pongo accanto un difensore, un avvocato, il paraclito, lo spirito che vi insegnerà e vi ricorderà ciò che vi ho detto. La sua presenza vi permetterà di attraversare l'ostilità del mondo. E tutto questo maturerà in un frutto di gioia, dice poi nella seconda parte del capitolo 16. L'opera dello spirito che vi accompagnerà ogni volta che vi aprirete alla preghiera, che è uno dei modi con cui starete con me, che vi accompagnerà nella forma dell'amore del padre che sarà come l'infa che vi attraversa. L'opera dello spirito vi accompagnerà a maturare da una condizione di tristezza a una condizione di gioia e lì c'è l'immagine della donna che partorisce, no? E Gesù dice io e voi insieme stiamo partorendo una vita nuova. Dalla tristezza maturerete nella gioia. Io vado al padre e questo apre porte di gioia. È il paradosso della lettura che Gesù dà della sua morte. C'è tristezza, ma questa tristezza si aprirà alla gioia. E arriviamo così al capitolo 17, che appunto riprende dei temi precedenti. Prima però diciamo che la struttura del capitolo 17 è rigorosa. Possiamo dividere, vedrete nella lettura, in cinque parti in qualche modo. In una struttura concentrica. La prima e la quinta parte mettono a tema la conoscenza. Gesù parla di una conoscenza, la conoscenza del padre, la conoscenza di lui. Conoscenza. La seconda e la quarta parte toccano invece il tema della preghiera. Gesù prega per i suoi discepoli presenti e per i discepoli che verranno. E al cuore, la terza parte, quindi al centro di questa struttura concentrica, c'è il tema della consacrazione. Dal versetto 17 al versetto 19, il vero cuore, la consacrazione. Gesù consacra se stesso e chiede al padre di consacrare i discepoli. Dunque, varchiamo la soglia del capitolo 17. Padre, è giunta l'ora. L'ora di cui si è parlato tante volte, l'ora di Gesù, i giudei che cercano di mettere le mani su Gesù ma non è ancora giunto la sua ora, è accaduto diverse volte, è stato detto diverse volte. Infine, ricorderete, 12.23, Gesù che dice, ecco, è giunta l'ora. È giunta l'ora di riunificare i figli di Dio dispersi attraverso la mia morte. Siamo poi entrati nell'ultima cena ed ecco che Gesù ribadisce, è giunta l'ora. L'ora di che cosa? Della glorificazione. Glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. Già in precedenza Gesù ha parlato della sua morte, parlando di una glorificazione, cioè della manifestazione, della potenza salvifica di Dio attraverso la sua ora, attraverso l'ora di Gesù, attraverso la sua morte. Nel Vangelo di Giovanni la morte di Gesù è il luogo della gloria che si manifesta, perché la morte di Gesù racconta definitivamente, apertamente, l'amore del Padre per il mondo. Dio ha tanto amato il mondo, dice già dal capitolo 3, Giovanni, da dare il suo figlio unigenito. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui, perché il mondo sia salvato dall'amore che si racconta pienamente nel figlio. Padre glorifica il figlio tuo, cioè mostra la potenza tua, salvifica in me, perché il figlio glorifichi te, perché il figlio possa raccontarti fino in fondo. Ecco, la morte di Gesù è il modo che Gesù mette in atto, è la strategia necessaria a cui Gesù aderisce di fronte all'ostilità del mondo per raccontare l'amore fino in fondo. Forse in un mondo diverso che non si arma così nell'angoscia contro l'amore, il racconto dell'amore del padre non sarebbe passato dalla crocifissione, ma nel mondo così com'è chi ama fino in fondo prende un sacco di botte. Ecco, questa è l'idea. L'amore non si tira indietro neanche di fronte alla resistenza, alla reticenza del mondo, questa struttura di chiusura di fronte alla luce, questa struttura di tenebra, questo modo di stare al mondo che si rinchiude di fronte all'amore. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano affinché dia la vita eterna a tutti quelli che gli hai dato. Il figlio, c'è stato detto diverse volte, ha ricevuto nelle sue mani ogni cosa dal padre, ogni potere. Che cos'è questo potere? È il potere di dare vita. L'unica direzione dell'attività del figlio che naturalmente esprime l'attività del padre, l'opera del padre, è quella di dare vita. Questo ci è stato detto in tutti i modi, ricordate in particolare ad esempio a capitolo 5, Gesù che guarisce l'uomo paralizzato nella piscina di Bezzetà e viene rimproverato perché lo fa in giorno di sabato e Gesù dice il figlio fa quello che il padre fa. Il padre dà vita sempre, anche il figlio dà vita sempre, quindi anche in giorno di sabato. La vita è eterna. Io sono qui per dare la vita eterna a tutti quelli che mi hai dato. La vita eterna, che non è la vita dopo la morte, nel Maggio di Giovanni, la vita eterna è la vita piena. La vita in tutte le sue espressioni, in tutte le sue risorse. La vita nella sua pienezza. Ecco, io sono qui perché abbiano la vita in abbondanza e il modo con cui possono avere vita in abbondanza è che io consegni la vita. La vita che tu mi hai dato io la do a loro perché radicati in me portino molto frutto. E questa è la vita eterna. Che conoscano te, ecco il tema della conoscenza, che conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai inviato, Gesù Cristo. Conoscere, in senso biblico, non è una conoscenza della testa intellettuale, ma è una conoscenza viva, del profondo, del cuore, una conoscenza cordiale, una conoscenza che permette di varcare la soglia della distanza tra me e l'altro per entrare in comunione con Lui. Questo è conoscere. Quindi io ti ho fatto conoscere loro, vuol dire io ho dato loro l'opportunità, la possibilità di entrare in comunione con me e attraverso di me con te. Gesù procede naturalmente, non leggiamo tutto il capitolo, in un secondo momento appunto il tema della preghiera, al versetto 9. Io prego per loro, per i discepoli qui presenti, non prego per il mondo, ma per quelli che mi hai dato, perché sono tuoi. Non prego perché permanga la struttura di peccato che si chiude alla rivelazione, che si chiude a me come rivelatore del tuo amore. prego per loro, perché radicati in me portino molto frutto e rimangano, permangano, nonostante l'ostilità del mondo. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo mentre io vengo a te. Padre Santo, custodiscili, custodiscili nel tuo nome quelle che mi hai dato, affinché siano uno come noi. Potranno resistere all'ostilità del mondo se rimarranno in me come io sono in te. Diventiamo una cosa sola. In tempo di minaccia ci si raccoglie, ci si stringe gli uni gli altri per essere forti. Questa è l'idea. Rendili forti in me, rendili forti in me, radicati in me, così che siano in te come io sono in te. Quando ero con loro, io custodivo nel tuo nome, cioè nella tua presenza, nella tua potenza, nella relazione con te, quelli che mi hai dato, e li proteggevo. Ma adesso io sto per andarmene. E quindi, e quindi custodiscili tu attraverso lo spirito di cui hai già parlato. Nessuno di loro si è perduto, eccetto il figlio della perdizione, colui che ha scelto un'altra strada, che ha scelto di non rimanere radicato in me. Io non ho il potere di dare la vita a chi non vuole accoglierla. Anche qui l'ho già detto in precedenza, Gesù si è lamentato con le autorità giudaiche. Voi non volete venire a me per avere la vita, dice nel capitolo 5. Il figlio della perdizione si è perduto, ma io non perdo speranza di continuare a coltivare i miei discepoli, per questo te li affido. Il figlio della perdizione si è perduto. Che cosa significa questo? Che non c'è redenzione possibile per lui? Su questo Giovanni non affronta il tema. Certo è che l'amore non perde speranza di accompagnare i suoi figli. Quando si chiudono, anche oltre la morte, l'amore bussa. L'amore bussa. Che cosa sia di Giuda? Noi non sappiamo. Ma sappiamo che Giuda può chiudersi, ancora chiudersi, anche nel tempo del morire, può continuare a chiudersi all'amore, ma non può impedire all'amore di amarlo e quindi, chissà, la speranza che si apra all'amore. Questo è il motivo per cui la Chiesa prega per i defunti, perché si aprono all'amore e quindi possiamo pregare certamente anche per Giuda. E arriviamo al capitolo del versetto 15. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Appunto, non ti chiedo di metterli da parte in una zona riservata a loro dove non regano l'ostilità, perché non è così che funziona la vita. L'ostilità le sberle se le prendono, ma tu fai loro percepire che sono nelle tue mani e che sono inviolabili, irraggiungibili. Possono anche essere uccisi, ma non possono essere dispersi, sottratti alle tue mani. Fai loro percepire che sono inviolabili, benché raggiungibili dalle insite del mondo. C'è una parte profonda di loro che è nelle tue mani. Nel Vangelo di Matteo Gesù dice potranno uccidere il vostro corpo, ma neppure un cappello del vostro capo cadrà dal vostro capo, andrà perduto. Potranno uccidervi, ma non distruggervi. L'amore vi rende vivi, anche attraverso il tempo della persecuzione e della morte per violenza. E arriviamo al cuore. Il tema appunto della santificazione, consacrazione. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Cosa vuol dire consacrare? Vuol dire offrirsi pienamente, offrirsi come dono, come dono che nei riti religiosi diventa un dono sacrificale, offerto al Padre, offerto a Dio pienamente. Quindi consacrali. Fa che radicati in me, che mi consacro a te, che mi offro a te pienamente, anche loro seguono il sentiero della vita, che è quello di offrirsi a te pienamente, nell'amore. E quando questo dovesse significare che l'offerta dell'amore, l'offerta nell'amore, scatena la reazione violenta del mondo, che non vuole sentire parlare di amore, che non vuole vedere amore, aiutali a reggere il peso di questa reazione. Ecco, questo vuol dire essere consacrati nella verità, radicati in Gesù, verità, parola di verità che racconta veramente chi è il Padre, e quindi capaci di reggere il peso dell'iniquità, del mondo, della violenza, per raccontare fino in fondo che Dio è amore. Voi potete prenderci a sberle, ma noi non possiamo tacere, diranno Pietro e Giovanni negli Ate degli Apostoli a capitolo 5, di fronte alla ostilità del Sinedrio, ancora una volta, Pietro e Giovanni, questo già nel capitolo 4, dicono noi non possiamo tacere. Ci dite di tacere, di non annunciare il nome di Gesù, cioè la sua presenza, noi non possiamo tacere. E poi, quarta parte, ancora ritorna il tema della preghiera, non prego soltanto per costoro, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, e quindi Gesù sta pensando a noi. E quindi, quinta parte, ancora il tema della conoscenza, Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto chi tu mi hai mandato. Io ho fatto loro conoscere il tuo nome, appunto, la tua identità profonda, il tuo amore. Lo farò conoscere ancora attraverso la mia morte, affinché l'amore con cui mi hai amato sia in loro e io in essi. Questo è il punto d'arrivo, che l'amore del Padre sia nei discepoli e in quell'amore la presenza di Gesù respiri. Concludiamo quindi la lettura del lungo discorso di Gesù che ci accompagna alle soglie della passione. Buona lettura.